Amore mio, ora devi indovinare le squadre di calcio, vediamo se... Vabbè, questo è il Barcellona Bravissimo, bravissimo Ne voglio uno difficile, troppo semplici finora Vabbè, Bayern Monaco Stai andando benissimo Interess Se prendi questa ti do 500 euro Vai, vai, vai Questa la prendi, eh SACTOR! No! Perché è così veloce?